Entrato anche il sindacalista e allora ci siamo. Tutto pronto, partiti. Cavalli della prima corsa, la condizionata per i giovani sul miglio in pista piccola. Subito caotico che esce dalle gabbie e si porta subito a condurre. In seconda posizione adesso c'è il sindacalista. Poi in terza con la giuba blu e gli inserti arancio c'è Crystal Drake. In quarta posizione l'altra giuba blu con il cap giallo invece è Night Hero. Dopo una prima fase interlocutoria il sindacalista punta dritto verso la testa della corsa incontrando l'opposizione di Caotico che poi gli lascia a strada. Passa in vantaggio quindi il sindacalista, il nuovo battistrada. Caotico è in seconda posizione, in terza Night Hero, quarto comunque a contatto Crystal Drake. Si sta andando pianissimo con il sindacalista che questa fase sta facendo i suoi comodi. Primo quarto della curva affrontato con lui in vantaggio. Caotico in seconda posizione, poi ancora Crystal Drake che ha i suoi fianchi Night Hero. Si va così a tre quarti della piegata. Oggi tutta pista piccola così come nella prima corsa. Il sindacalista oggi gira bene ed è sempre in vantaggio. All'esterno c'è Caotico, di dentro sfila proprio Crystal Drake. Il primo a mettere pressione al battistrada, poi Night Hero in mezzo al gruppo. Caotico decide di andare a galoppare in una fascia più centrale della pista ma davanti c'è ancora il sindacalista chiamato a maggiore impegno. Paletto dei 400 con il sindacalista ancora davanti nei confronti di Crystal Drake ma soprattutto all'esterno di tutti c'è Caotico che passa in vantaggio. Caotico che prende di infilata tanto Crystal Drake quanto soprattutto il favorito sindacalista. Negli ultimi 100 metri, Caotico deve controllare il serrate di nuovo di Crystal Drake ma sta controllando tutto. Caotico, 2 su 2, vince la condizionata d'apertura nei confronti di Crystal Drake. Terzo posto dovrebbe essere Night Hero ma insomma qui la delusione è certamente il sindacalista che andrà rivisto. Vince sicuramente numero uno dello schieramento, figlio di Pounds con Dario Vargio in sella. Training di Alduino e Stefano Botti, colori sono sempre quelli di Alduino e Stefano Botti. Caotico dopo la vittoria di Napoli, 10 luglio, si è rivisto quest'oggi. Una bella affermazione, che buona fisicità. Uno al primo posto, due al secondo e poi al terzo Night Hero, 1-2-5, delusione il sindacalista. E' tutto. Grazie. E' tutto. Grazie. 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 Grazie a tutti.